Torna in Cassazione il caso di Martina Rossi, la studentessa genovese, morta all'alba del 3 agosto 2011, precipitando dalla terrazza del sesto piano dell'hotel Sant'Anna a Palma di Mallorca, dove era in vacanza con le amiche. L'udienza per Luca Vanneschi, uno dei due eretini condannati a tre anni per tentato stupro davanti alla quarta sezione della Suprema Corte, è stata fissata per il 22 luglio. La data è stata resa nota dopo che gli avvocati Carlo e Stefano Buricchi avevano presentato ricorso in Cassazione per il proprio assistito. In primo grado Vanneschi era stato condannato assieme ad Alessandro Albertoni a sei anni di reclusione, anche per l'accusa di morte come conseguenza di altro reato, sentenza poi ribaltata in appello quando i due vennero assolti. La Cassazione però aveva annullato quest'ultimo verdetto ordinando un nuovo processo che ha portato lo scorso 28 aprile alla condanna di tre anni per la sola tentata violenza, essendosi prescritto l'altro reato. Ed adesso, di nuovo, la Corte Suprema che dovrà pronunciarsi in tempi rapidi perché nel prossimo mese di ottobre anche il reato di tentato stupro cadrà in prescrizione. Al momento non è noto se anche l'altro imputato, Albertoni, difeso dall'avvocato Tiberio Baroni, abbia presentato il ricorso dato che alle parti non è stato notificato ancora il deposito nonostante la scadenza dei termini avvenuta lo scorso 12 giugno.